Toscana, bella e buona, di Simona Bellocci. Le donne, gli uomini, i prodotti della nostra terra. La pizza è una questione di magia, un'arte manuale, un'arte che diventa patrimonio di tutti, uno dei simboli dell'identità italiana. Quella pizza legata a doppio nodo a Napoli, ma che oggi trova la sua stretta narrazione anche in altre città, grazie a tanti pizzaioli che con la ricerca continua e la sperimentazione sul prodotto, stanno costruendo la cifra stilistica della pizza toscana. Tra loro c'è Giovanni Sant'Arpia, tra i migliori pizzaioli al mondo. Giovanni è di Castellammare di Stabia, ma ormai pienamente toscano d'adozione. Lo incontro nel suo locale a Firenze, ha appena sfornato il pane fatto con l'impasto della pizza. Tu considero, quando ero ragazzino, andavo con mio padre a prendere la pizzeria del quartiere oppure andavo con mio nonno a prendere la pizza a me e mi attaccavo sempre al vetro perché tu vedevi questo pizzaiolo con questa vasta bella gonfia che quando poi buttavano sulla farina sbuffava. A quella era un piacere di vedere queste cose, di vedere il pizzaiolo che stendeva la pizza morbida, bella, livitata, quando la condive, poi la metteva nel forno e poi veniva una magia quando usciva fuori la pizza dal forno che era spettacolare. Io sono Simona Bellocci e questo è Toscana Bella e Buona, un podcast prodotto da intoscana.it, il portale ufficiale della Toscana, un viaggio di parole nell'agricoltura, nelle storie dei moderni contadini, nei sapori e nelle produzioni locali. La pizza per Giovanni Santarpia è una questione di cuore, ricordo e condivisione, mestiere e spirito di gruppo, quello che ha creato con i ragazzi e le ragazze che lavorano con lui, una grande famiglia. Oggi il suo nome è consacrato dalla critica, ma torniamo indietro. Io e Giovanni parliamo del suo inizio, quando ha cominciato ad apprendere il mestiere. Il mio lavoro è iniziato in 1988, iniziai a fare il ragazzo di bottiglia, facevo i calzoni, pizza fritta, i brocchia, gli anancini, eccetera, fino a quando un bello, un vecchietto, che si doveva passare di là, che abitava nel quartiere, e lui gli disse, il proprietario, gli disse, ma perché non fai il forno a legno e mi insegno io a fare le pizze? Il suo vecchietto aveva 83 anni, è spedito da Fone, e a distanza degli anni ho conosciuto Sonipote, è spedito da Fone, che faceva il panettire anche lui. Lui prese, ci insegnò a fare l'impasto a mano per prima, poi dopo l'impasto con l'impastatrice, e siamo arrivati appunto a fare una buona pizza, cercando di fare una buona pizza. Partì con l'anno successivo, continuando a fare il pizzeolo, imparando sempre meglio, fino a quando arrivi nel 91 andai a lavorare a Capri. La prima volta di Giovanni Sant'Arpia in Toscana è invece nel 1996 a Vicchio, poi altre esperienze in Italia per costruire quel bagaglio che porta oggi Sant'Arpia, tra i protagonisti più vivaci della scena della pizza italiana. Prima di ritornare qua andai a fare in giro tutti i pizzerie, tra la provincia di Napoli, andai a vedere un po' tutti i pizzerie, come facevano la loro pizza. E' giusto per rubare i mestieri, perché sono lato di mestieri, purtroppo della disdestina mi sono messo a leggere, a studiare e tutto, però io guardavo gli altri, guardavo gli altri come lavoravano, come si muovevano, anche in passato, perché comunque in modo e l'altro, pure se io andavo in giro per divertimento, comunque rubavo con gli occhi. Cominciai un po' a vedere un po' gli altri come lavoravano, come era la loro pasta, ma come la fai questa pasta, ma senza essere troppo invadente per poter dire che io ero pizzaiolo. Non volevo far vedere che io ero pizzaiolo, perché se no non ti dicevano tante cose, no? Il fatto di essere entrante, poi dopo va a finire che tu... Questi video ti dicevano tutti i piccoli, credo, i piccoli segreti, un po' di piccoli spunti, dove io poi provavo per fatti miei, provavo e riprovavo per cercare di trovare la mia dimensione. La farina, perché poi c'era anche il fatto di trovare una buona farina. Mi ricordo questo vecchietto, che poi sai quando tu fai quel bagaglio di esperienza, no? Il bagaglio di pensieri, di idee, di queste cose, e ti dai fuori questo bagaglio, da dentro a questo bagaglio, quando dicevi il vecchietto, metti un po' d'acqua calda dentro la farina e senti profumo, perché così a me tu capisci se il profumo della farina è bello, buono, oppure no. Lui dice, vabbè, si spedì, ma non si spedì, tu chiamavano, figurati. Poi si spedì e si guardò un po', e allora si pigiava e si assaggia e si sentiva questo profumo. Però da ragazzino gli dai poco importanza. Nel momento opportuno che tu veramente più pensavi che fosse la tua vita, rimuginavi, ripensavi tutti questi racconti che ti diceva e tu li mettevi in mezzo. Ecco che Sant'Arpia trova l'identità della sua pizza sicuramente creativa, sperimentale negli abbinamenti e nei sapori equilibrati e decisi, come la propria personalità aperta, inclusiva ed estrosa. Un'identità che trova anche il luogo dove esprimersi quando Giovanni Sant'Arpia apre la sua prima pizzeria in Toscana. Il primo locale mio nel 2006, si chiama Palazzo Predorio, nel borgo medievale di San Donato in Poggio, bello, sulle mure, era per spettacolare. Si riuscì a fare un bel lavoro, riuscì a portare un bel po' di gente, tra virgolette poi l'arte di inventarsi. Siccome per far arrivare gente là sopra, in quel paese, perché tu comunque dovevi portarla alla gente, perché comunque, a San Donato in Poggio, non era semplice di far l'inativare. E io creai dei volantini della storia di San Donato, ce l'ho ancora conservata a casa, della storia di San Donato e c'erano le foto del paese, i vari punti dentro il virgoletto dove c'avevo io questo virgoletto del locale, i vari punti altri virgoletti del paese, eccetera, però tutte le foto portavano davanti al mio locale, senza seguire, vedi, è scritto Palazzo Predorio. Per far sì che la gente dovevano girare, perché dovevano girare per vedere, non è che le dà. E non c'era una pubblicità del locale su questo volantini. Da una parte il mestiere ormai è preso pienamente, dall'altra la capacità di far arrivare le persone a conoscere la sua pizza. Sant'Arpia non si ferma, la sua mente è un fuoco sempre acceso. La meta è un viaggio che non conosce sosta. Ancora altre esperienze e poi l'arrivo a Firenze del 2015. La sua pizza è sempre più conosciuta, poi uno stop ed ancora un'altra ripartenza, perché Giovanni è uno che se cade si rialza più forte di prima. L'apertura dell'attuale pizzeria in via Senese nella testimonianza, un locale che ha vissuto come altri anche lo stop per la pandemia. Eppure Sant'Arpia trova sempre la chiave per reinventarsi. Così iniziano le consegne della pizza a domicilio. Giovanni spiega ai clienti come ripassarla in forno, per mantenere tutte le caratteristiche del caso. Poi la sua pizza esce anche dal locale. Giovanni, con il suo forno mobile, partecipa ad eventi esterni. Il suo nome cresce di popolarità. Non avevo nulla, sono partito proprio da... Però tutto questo, io avevo due cose importanti. Vabbè la passione e il mio mestiere, io avevo tutti i miei ragazzi che mi hanno affiancato, tutti. che mi hanno aiutato a ritripingere, a buttare via l'immondizia, a rimettere in sesto un po' tutto, a organizzare tutto quello che c'è all'interno dell'attività. Fortunatamente di carità con loro li amo, perché poi loro, diciamo, credo che amano meglio. Però il ripartire è stato questo. È un'emozione anche vedere tanto meno queste cose. Non è solo un lavoro, perché per me non deve essere solo un lavoro. Il mio lavoro deve essere un divertimento. E se io mi diverto con tutti quanti loro, con tutti i miei ragazzi, il cliente si diverte, chiunque viene qua, si siede a tavola, dice io sto come fosse a casa, vedo un'armonia tranquilla, serena, deve essere così. Poi parliamo di pizza mentre siamo seduti ad un tavolino. Non una pizza qualsiasi, ma quella del cuore. Se io ti devo dire la mia pizza, mia pizza preferita, che è una pizza che per me è sempre, per tanti è preferita. Però io vedo la mia, la mia, la mia, diciamo, infanzia, più che altro, perché mia mamma mi beccava con le mani nella pentola e prendevo le sassicce e friadello. Ma ti dovrei far parlare con mia mamma. Mia mamma mi disse una serata, e ridendo la mia mamma così, tipo alla totò, e ti mangiare il friadello e la sassicce con le mani. E questo, si può, è una spettacola. E a me quella mia è rimasta ancora, diciamo, mi è rimasta ancora il fatto di mangiare sassicce e friadello, oltre a quella margherita, però è quello che io vedevo, la mia infanzia la vedevo in quel modo là, la pizza che ha la mia identità. e ancora adesso non la facciamo con la crema di friadello, la prepariamo noi, facciamo la crema di friadello, ha fatto un po' di visita, però è sempre quella, capisci? Gire e gire, mangio sempre i friadello con sassicce. La sassiccia, l'unica sassiccia che io cerco di mettere insieme, è la sassiccia napoletana, che a me piace diversa, ma è diversa dalla classica sassiccia toscana. Però è solo quella, poi tutti i resti mangio tutto toscano, mangio toscano perché a me piace, va bene, e allora bene o male, crei un po' questi abbinamenti, facendo, mettendo le varie contaminazioni, contaminazioni sapori campani, toscani, e mettendoli un po' insieme. Dalla tradizione il passo verso la contemporaneità è un salto velocissimo e Giovanni Sant'Arpia non si tira certo indietro, soprattutto nell'incontro tra Campania e Toscana e così nascono pizze fortemente identitarie, ispirate a piatti e di prodotti della tradizione, a partire da quella fiorentina. Ficcio la pizza al lambredotto e quella è una pizza che comunque il prodotto è toscano, la pizza al lambredotto che a me piace tantissimo perché poi l'ho abbinata con la pizza fritta, pizza fritta con cantina fuori, unta, poi bagnato con il suo sugo, il lambredotto dentro, non sa sapete, è la morte sua. Oppure, tanto meno, abbiamo fatto anche la mozzarella in carrozzo con la trippa sopra, potrebbe essere quello con la pizza, o con le varie contaminazioni, i vari prodotti che siano toscani, che siano esti, io ho cercato di mettere la pizza, pure con il ragù, l'ho fatto per un paio di tempo, il ragù toscano con la provola affumicata, e scaglie di parmigiano sopra. Ho fatto pure la riboll pizza, la ribollita di pizza, però creando i vari assemblaggi con la crema di cavolo nero, con il fagiolo, comunque il cannolino sopra, con una carolina, un po' eh, creando un po' il prodotto della riboll pizza. Lo facemmo quando c'è l'altra pizzeria nella parte mia. Ci sono varie cose che puoi riuscire a abbinare e mettercelo sopra senza essere ovviamente un accavallamento di sapore. Deve essere un giusto equilibrio di prodotti, perché così almeno gli dai quello bilanciamento che quando tu vai a mangiarlo dici, beh no, sento tutti i sapori. Nel bordo lo dici, beh, bellissimo, gli senti i sapore, e devi sentire quella poesia, perché poi quando tu mangi un prodotto che sia di cucino, che sia di pizza, che sia di dolce e tutto, devi giudere quegli occhi e sentire quella poesia, e quella poesia di sapori, quegli abbinamenti di sapori, quei piaceri che la gente dice, bella. Contaminazione non solo di prodotti, ma anche di cervelli, tanto che Sant'Arpia si è aperto a collaborazioni anche con altri nomi del panorama gastronomico italiano. Amo la Toscana, per questo tanti prodotti a livello toscani, a me piace metterceli oppure assemblarli o prendere dei prodotti poveri toscani e da mettere proprio su una pizza. Si fece con Luca Cai, si fece la pizza con la lingua, il carpaccio di lingua, che poi dopo ci si era messo un po' questo pecorino grattugiato sopra e questo limone spremuto così bello a fresco sopra. Ma era spettacolare. ecco che gli incontri tra le persone e i prodotti diventano la nuova strada da percorrere in Toscana. A me piace, a me piace su questo lato, mi piace su questa cosa qua, diciamo, che ci sia una contaminazione un po' di tutto. Non per nulla, noi abbiamo una piccola associazione di pizzaioli che tutti fanno una pizza totalmente diversa, la pizza classica toscana, la pizza di peca poletana, la pizza a pala, pizza, diciamo, così da lì c'è varie contaminazioni, da un altro amico che c'è una pizzeria a pala che fa, grazie all'omologamia, la divina pizza, o altri personaggi, o potrebbero essere uno del Ferrone, o Tommaso Patti, diciamo, radicondri, Chico, tutti hanno un tipologì di pizza totalmente diversa da una all'altra, ma anche se fanno una pizza uguale alla mia, io sono contento, l'importanza che ci sia qualità, che sappia fare una buona pasta, sappia mettere i prodotti giusti sopra, che ognuno deve avere la sua soddisfazione. Fuori si fa buio, a breve la pizzeria aprirà le sue porte, i ragazzi di Giovanni Sant'Arpia sono già al lavoro, sistemano la sala, altri sono al fuoco del forno. Intanto c'è ancora tempo per immaginare, per progettare il futuro della pizza, magari con una strada della pizza nella Toscana diffusa che tenga insieme i maestri pizzaioli, i borghi, i produttori locali. Un sogno comune e realizzabile, fatto di arte, passione e sentimento, un cerchio d'amore quello della pizza, che mette insieme uomini e donne appassionate, quelle che producono le materie prime e quelle che consacrano la qualità con la pizza, un immenso patrimonio comune di quelli che ancora sanno unire e condividere. oggi in questo episodio ho voluto raccontarvi la storia di Giovanni Santarpia e della sua pizza ormai legata a doppio nodo alla Toscana. Ci risentiamo presto con altri racconti agricoli e se avete qualche storia da segnalare scriveteci a redazione atintoscana.it Ne parleremo a Toscana Bella e Buona un podcast che vi porta nella bellezza straordinaria del mondo dei moderni contadini. Alla prossima! Questa era Toscana Bella e Buona Ascolta le altre puntate nei nostri podcast e seguici su intoscana.it